E' stata presentata nel parco antistante Ferrara Fiere La Maestà Sofferente, l'opera di Gaetano Pesce che accende i riflettori sul tema della violenza sulle donne. Le caratteristiche della scultura del designer, alta a 8 metri, sono state illustrate dal presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi in una conferenza a cui erano presenti tra gli altri il sindaco Alan Fabri insieme ai diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale, il presidente della Fondazione Teatro Comunale Michele Placido ed il presidente di Ferrara Musica, Francesco Micheli. Ho voluto che la festa fosse una festa di popolo e il popolo è fatto di donne e di uomini e che fosse con un'opera d'arte. Nel momento in cui Ferrara Arte è chiusa, Ferrara Arte esiste con l'opera del più grande designer italiano. Darò altri elementi, l'opera è assicurata per una cifra molto alta, il suo valore di mercato rispetto a quello che sapete l'amica Perufo di quello che si trova nella vendita del design, è oltre il mezzo milione di dollari donato da questo artista perché Ferrara fosse la prima e la sola città che consacra e onora la donna non un solo giorno, perché l'8 marzo è un giorno solo, poi cominciano i giorni del non compleanno, come direbbe Lewis Carroll. Invece tutti i giorni e tutti gli anni, per quanto resterà fino a recomporsi quest'opera. Quindi una festa di tutti i giorni. La maestà sofferente, ha aggiunto Sgarbi, presto dialogherà con un intero parco dell'arte che stiamo progettando proprio di fronte alla fiera. Il sindaco Alan Fabri ha sottolineato poi che la scelta della fiera si è dimostrata azzeccata, ancor più in un momento difficile, perché dà la possibilità a tutti di ammirare l'arte all'aperto, in sicurezza e nel pieno rispetto delle restrizioni vigenti.